Buonasera 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 Padillac Fammi chiudere bene la porta Stavo cadendo Buonasera Spinell, buonasera Lota Boy Buonasera a tutti, ciao Allora, buonasera boys Come va? Sto un martedì pomeriggio che sa di showdown appate La mia storia su Instagram non è stata appata correttamente Perché la mia storia su Instagram non è stata appata correttamente E Instagram sta a pezzi In che senso doppio picco penda? Allora, probabilmente uscirà una doppia sfida di openda Cioè una sfida 5 skill e una sfida 5 piede debole Buonasera gladiatore Buonasera arco j Buonasera Buonasera amici Openda per chi non si accontenta Chi era quello là? Openda per chi non si accoltella Era sempre lui Era eh Buonasera, buonasera a tutti Allora, signori Abbiamo ricevuto gli upgrade Dei nostri amici showdown Wolf, Joe Felix, Bastoni Hai fatto Bastoni, ha solo pareggiato E infatti ho fatto Bastoni nella Evo E l'ho messo titolare E adesso vi spiego anche il perché I miei abbonati sanno ovviamente già tutto Io ve ne ho parlato stamattina nel gruppo abbonati Era Rovella, era Rovella Per chi non si accoltella Buonasera Geppa Buonasera a tutti signori E... Vabbè, ovviamente ho fatto Quadrato Io vi confermo la mia review di ieri di Quadrato Ci ho giocato sia ieri sera Un paio di partite Sia stamattina Buonasera Coronas Eh, raga Non ho fatto Joe Felix Perché alla fine ho pensato Innanzitutto Non ce l'ho titolare Per ora perché c'è Son Che, raga, oggettivamente Sto Son è troppo più forte Ma poi se Joe Felix Già l'ha preso l'upgrade Decisivo Ok E quindi ho deciso Vabbè, ma sai che c'è Akanji già è fortissimo Bastoni forse è quello che Necessita un po' più di upgrade Ma non ho fatto ovviamente Wolf Perché Non... Non lo gioco di dolare Hai provato Yoshida? Sì, lo provammo Yoshida Opepugnas Punta scala di voi Yoshida Buonasera Coronas Buonasera a tutti signori 18-18-84 20-82 Ce li hai tu sblocca Ce li hai sbici fatte Michel Va bene Lo sai no però Ci dobbiamo un attimo prima testare il bro Ho un centinaio di pick Se vuoi su Xbox Assolutamente sì Giappone Assolutamente sì Buonasera Max Come sta? Ma infatti andiamo a provare un po' di sculacchiate Perché secondo me questi picchettini Io oggi non ho avuto Non ho avuto il tempo di Di buildarmeli Però Però secondo me questi pick 81 o più vanno fatti Buonasera Templare Secondo me questi pick 81 o più vanno No l'ho fatto senza Oddio no aspetta L'avevo fatto crescente Vanno fatti questi bro Con un po' di attenzione Perché non bisogna Non voglio mettere tutti quanti Che qua non sia mai Esce Esce una evo particolare Tutti questi qua Ma li ho fatti Li ho utilizzati tutti quanti Per Li ho utilizzati tutti quanti Per Per quegli altri pacchettini Lì E già ce li ho praticamente Tutti quanti selezionati Eccolo Io non ho più oro comuni Libertadores e simili Eh no immagino Immagino Sta Buonasera Domi Oggi vedeva la serie a usare Candreva E io ve l'ho buttato Nell'isbisitico mano E me va a sentire proprio un senso Vabbè loro c'hanno le limitazioni Ovviamente Oh vedi vedi Ho pick 81 Un 86 Fino di Baleolio Eh non male Ci sta amici Ce l'hai fatto bene A farteli Fatevi questi pick ragazzi Che Che il drop Non è malissimo Ma sai che ti dico Io ci metto proprio Yoro 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 Ma che me frega Ci metto Yoro Tanto questi qua Ma Ma questo l'ha comprato La Juventus Ehm non so se spendere 200k per farmi son avendo Werner, Eusebio, Felix e Gino Lainbappe secondo me il sonnevo è più forte di Eusebio King Oriens è uscito Blanc, eh non male fino a 81, nei pack 82 un sacco 87, 88 si da gennaio parca miseria sai che io forse ho buttato la versione ho buttato la versione del della Ligan è quello se esce un'evoluzione che è molto forte come giocatore sonnevo li vale 200k si, si li vale 200k perché la versione scambiabile sul mercato, quella là, Birday che ho anche io è una card che è fortissima quindi assolutamente si li vale tutta la vita tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita Gengaropenda esce alle 19 ieri, l'altro giorno quando facevo i pick c'è gli aggiornamenti quelli là dei 77 e più invece di metterli randomicamente da un consiglio che vi do andatevi a mettere per ruolo cioè cercateli proprio per ruolo perché così vi droppa un sacco di vedi un sacco di giocatori che magari non non vi servono oppure magari sono di overall un po' più un po' più alti tanto comunque li avreste buttati in qualche aggiornamento però magari invece di andarveli a cercare scorrendo nel club ve li andate a ve li andate a mettere ve li andate a cercare per ruolo e sicuramente vi escono dei giocatori più facilmente all'interno della ricerca stasera finalmente la My Exceed e ho visto ho visto che stasera forse in game dovrebbero mettere la My Exceed sono contento oh buono 87 eh vedi che sti picchettini droppano qualche qualche overrollo eh nanana nanana quindi fatevi raga vi ho detto mettetevi mettetevi con il mettetevi con il il ruolo tipo avevo messo che avevo messo terzino destro mettiamo terzino sinistro vediamo che tengo vedi tutti sti sti giocatori qua che magari sono 78 sai che devi scorrere tantissimo il il club per andarli a trovare invece te li vai a mettere con il con il generatore ruolo scusami con il selezionatore ruolo e te li trova te li trova molto più facilmente grazie per la sub no amici non ancora grazie per la sub Marone Simone grazie mille per il settimo mese è bello da casa come stai punto scandivo gruppi per rientrare nei gruppi sub ciao Fabio buonasera buonasera Mazzino buonasera Barbagialla buonasera Kenshiro buonasera a tutti tutto bene ragazzi mi sono iscritto di nuovo in palestra oggi pomeriggio non mi sono ancora allenato vado domani la prima volta dall'anno scorso che è volato quest'anno raga pensate che ciao ralph l'anno scorso mi sono iscritto in palestra il giorno in cui è arrivata la notizia poco prima dei Tots di Premier no in realtà era a marzo è arrivata la notizia del fatto che la Liga si sarebbe chiamata Liga EA Sports eh sì sì capitano non ho avuto non ho avuto tempo di non ho avuto tempo di 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 fare nulla oggi cioè in realtà mi sono riposato ecco ti devo dire la verità sono andato sono andato a scrivermi in palestra e poi poi mi sono un attimo riposato che avevo delle cose importanti da fare ho preferito riposarmi un momento buonasera Tommy ti posso chiedere quanto paghi al mese qua al nord cosa sembra ho pagato 175 euro tre mesi però non è non è una di quelle palestre commerciali non è una di quelle palestre un paio di ambienti sai molto molto tranquilli in realtà ci va è già iscritto mio fratello là da un annetto quindi sono andato sul sicuro la palestra dove stavo dove stavo l'anno scorso era un buco di culo senza finestre e spero fallisca dato che tu sei esperto è vero che la pucciacca le signorine di colore è fosforescente chiedo non lo so perché tengo sempre la luce accesa Cassani buonasera Domi buonasera a tutti buonasera 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 così mi hanno detto oggi eh Cassani dovresti fare un esperimento vai nella zona stazione in questi posti qua sai buonasera Gistrano come state boys ce l'ho qualcosa di comnebo sudamericana qua no sudamericana vedi parla di raccmani può essere buttato pure nico gonzales lustondo birra fosberg gabbino pasalik aldervildo mi offro volontario per la parola ma va bene ci faccio sapere come va con la sifili di poi Cassani allora questo penda di questa sera secondo me e vi chiedo secondo voi in realtà sarà una sola sbc a scelta o ci faranno completare entrambe le versioni cioè una 5 skill e una 5 5 di debole e soprattutto saranno stats uguali o stats diverse vi ricordate come ci fu sterling quando ci furono le 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 ice and fire ve le ricordate secondo me saranno uguali dove cambiano solamente le dove cambiano solamente le come si chiamano le pierdebole masse abilità le faranno come showdown no mamma mia basta come cdk l'anno scorso marano chi lo decatelere mamma mia che bello quanto era forte quanto era forte chi lo decatelere comunque quello che hai non ti prendi niente lo promuovono lo promuovono a a gestore del della zona capi lo promuovono pappone della 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 zona d'azione nanana 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 no devo mettere le oro comuni abbiamo detto però non crescente facciamo così allora c'abbiamo balogun castellanos laureente gullit è troppo forte gullit è veramente troppo 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 forte chilo gullit è abominevole per quanto è forte ma è mai mai oggi è uscita animazione dei bird e poi c'è zia che in realtà è semplicemente lo stesso colore e danni troppo bella stai motta e tu la puoi spammare adesso capitato perché sei abbonato ora che succede cassa negna buonasera frank castell e dai e mi troppi un bird non nominare le scolate di max gullit allora vediamo un po' come lo possono fare questo mi sono rotto le palle le fasty pick ora vediamo un po' come lo possono fare sto penda perché io non mi ricordo le versioni precedenti mi pare che c'era una versione eccola vedi questa versione qua questa è proprio questa è proprio è un quarto da una base molto pulita la mancanza di stack di stack no ancora ripenso al mio pacco penso il più sbroccato della storia e il più dimenticato e snobbato perché è arrivato dopo il gullit di max vero verissimo uno att e uno ats mandamela su instagram oppure potete fare l'abbonamento boys e me la potete mandare su telegram sculacchio eh no quello proprio Daniele quello scula proprio perché la squadra si chiama scarsoni capito allora il nostro amico vende è un metro e settantasette ovviamente gioca gioca nell'ipsi e in bundesliga però 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 è belga e potrebbe essere interessante per per chi ha De Bruin o no grazie tu è un metro e settantasette però lui ha un body type abbastanza non tozzo però comunque ha un body type non piccolissimo parte anche con delle stats di forza molto interessanti gioca 99 di elevazione e 99 precisione testa parte da stats di dribbling ottime secondo me come partenza nel senso che gli possono boostare quel controllo palla quel dribbling e quella freddezza in maniera importante secondo me qua si va su 90 di agilità 92 di equilibrio 93 di reattività 90 di controllo palla 90 di dribbling e un 88 di freddezza secondo me meglio fanno e poi anche le stats di tino in realtà le possono boostare per bene in periodo in cui max non era più sul gioco in quel periodo ho scolato pure io da quando è tornato manco le ore le ore orale giusto De Bruin e Premier di suo ibridabilissimo però penda mi è sempre piaciuto sul gioco è sempre molto efficace al diare le stats ho trovato rodrigo non l'ho provato ma rodrigo se è come gli altri rodrigo è sempre il solito esterno piccolino potrebbe essere interessante poi c'ha come playstyle tiro di precisione razzetto rapido e trivelazza qua gli emettono qua gli emettono tecnico plus 100% e tiro di precisione plus secondo me o addirittura pure il razzetto un razzetto con 99 di velocità quadrato usato da ATD quadrato usato da ATD potrebbe io potresti mettere un cannoniere o un gladiatore o tiro passaggio e dribbling per boostare sempre quella reattività bello mi sta piacendo questo quadrato ma raga ma io mi muovo se ho preso il caffè ma perché sto sbadigliando ho finito pure l'acqua la posta faccia i razzetti si attivano ogni 3x2 non si riesce più no ma capitano quello è solo grafico ho trovato Van Nisteroy che ne pensi non l'ho provato ancora raga Van Nisteroy birthday però secondo me queste card delle birthday sono tutte utilizzabili cioè la più scarsa qual è? è kin credo è kin e close che sono comunque utilizzabili si Pietro buonasera gambe quel bastoni vale la pena evolverlo si ragazzi questo bastoni vale la pena evolverlo e anzi vi dico di più stamattina vi ho fatto anche sia un post su nel gruppo abbonati e e vi ho messo anche una storia su su instagram dove dove spiego questo dove dico questo lo devo mettere al posto di Gesù Orasmus di Gabriel Jesus su Ax e vi ho fatto un post stamattina bomboli nel gruppo abbonati ciao bomber genio dipende raga io perché non perché non ho fatto io Felix perché secondo me perché secondo me Felix già l'ha preso l'upgrade e quindi già è stato cioè preferisco dare un boost a chi non ha preso l'upgrade rispetto a chi comunque il più 2 l'ha preso e poi ovviamente dipende se voi lo utilizzate titolare per esempio nella mia nel mio caso specifico io ce l'avevo tutti tutti quanti Wolf lasciamolo stare Akanji è comunque forte secondo me Akanji era leggermente più forte di bastoni senza la a parità ok a parità di upgrade ha appato Akanji non ha appato bastoni Akanji era leggermente più forte allora per far diventare un po' più forte bastoni nonostante l'upgrade di più uno preferisco darglielo a quello che era meno forte dei due invece di far diventare super ultra mega forte Akanji faccio diventare tutti e due forti allo stesso modo considerando che Felix al momento non lo uso titolare vi dico che però se avessi avuto Felix titolare qua al posto di Son banalmente probabilmente avrei fatto avrei fatto Felix Nick io non mi chiamo Matteo bello mio kafu base o quadrado l'altro tse o quadrado un giorno molto più forte di bastoni poi dopo le versioni bisogna vedere bisogna vedere anche dopo l'upgrade di buongiorno io Akanji tanto sfigura sempre vicino a Van Dijk vicino a Van Dijk chiunque e poi più che altro io ho fatto anche un ragionamento su Adopo perché questo Adopo è molto probabile che con l'upgrade di Rolfo domani scali difensore centrale al posto di Akanji che è durato manco 100 partite ciao Anonymous buonasera e e Rolfo deve entrare in squadra ciao Vince buongiorno crispo è voluto capo crispo butra non l'ho provato no mi ha dato ascolto bravo bravo ma io ascolto i consigli assolutamente ah e comunque vi volevo dire anche una roba oh no no ho rotto il braccialetto è durato manco una settimana sto braccialetto no è aumentata bomber vabbè rip braccialetto tattico e Van der Sar è uno dei portieri più forti del gioco nove partite che ho giocato manco è iniziato a fare assaggiare un po' i bracciali hai visto mi si è proprio ingrossato il polso Weinsteiger porca miseria Bayek lo desidero il Weinsteiger non lo giocherei mai però per la squadra che c'ho però sto Weinsteiger 5 skill mi ispira un bot ma veramente a parte che c'è un'immagine dinamica che secondo me è devastante veramente proprio il Maranza degli anni 2000 proprio ci manca solamente il pizzetto quello là della guardia del finanziere della guardia di finanza degli anni 2000 con gli occhiali quelli là capito azzeccati a dritti per dritti così però quelli ancora più tondeggianti capito quali così col pizzetto si schwarz molto buono molto forte schwarz ma che cos'è quello stemma streamer awards 2024 che cosa ha fatto lei lui Giuseppe si fa comandare ho trovato blank birthday oggi ho trovato van der sale tutto bello ma l'infarto di vedere olanda e poi sto van der sale con già il tuono sì no non i ray ban a goccia quelli là proprio quelli là proprio ovali no no ovali grazie per la sub ecoidali marron mismar un anno di mismar grazie mille per il prime bello di casa bentornato e punto scantico gruppi signori abbonatemi con questo prime che è gratis bravo quella l'agente smith di matriz o guardate migliorissime finire che si poteva fare mi davano il bello bello social mainstiger anche quest'altro ovviamente non è male però quello con 5 skill tanta roba playstyle eccezionali secondo me questo molto 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 interessante per farvi capire quanto questo schmainstiger scusatemi quanto secondo me bruno fernandez è forte guardate qua la differenza rispetto a schmainstiger guardate là le stazze a sinistra vi rendete conto bruno fernandez uscito a metà gennaio quanto è forte di più rispetto a un icon uscita il 18 marzo è vero è un entrambi cesare ci sarebbe fare prima i 3 377 e quelli che con i doppioni con cui trovi che trovi dai 377 ti fai i pick cesare costava pure tanto bruno vabbè però con tutti i pack conservati dei toti brunello toti mascherato cioè rendetevi conto di quanto è forte quel bruno fernandez rispetto a uno schmainstiger de jong tu non riesco a toglierlo poi lasciate stare che ovviamente schmainstiger è un metro 83 4 5 lui c'ha 2 playstyle plus però bruno fernandez lui c'ha 9 playstyle ok schmainstiger 8 playstyle bruno fernandez non mi spazio ne ha 10 9 ok ne ha 3 dei passaggi 2 di difesa e si sentono bastian oro del baer lui pensa che bastian schmainstiger su fifa 14 nella modalità mondiale io l'ho usato per una cosa come 2500 500 partite per farti capire quanto mi piaceva cosa sono questi pack e picchi infiniti quelli che ci andiamo a fare stasera nell'esbisi lui ai tempi di liberi robin tipo mamma mia veramente quadrato borro quadrato la mia fortuna non vuole girare ho aperto il 5k il 50k close mi andavano bene tutti tranne lui buonasera insigne io ho trovato i 5-4 il 5-4 è forte secondo me è forte secondo me quel bastianone sto Joe Felix stamattina l'ho usato no una sola partita però una sola partita super sub e ti devo dire la verità sono quasi scontento di aver trovato sto son mi credi 4-3-2-1 Demar ora con la Rolfo sono in crisi pure io Kimmish Rolfo e Bruno ma sono tutti buoni come CC difensivi e non offensivi Rolfo e Bruno te li puoi portare tranquillamente avanti sempre deciso di evolvere Pedro Neto e in realtà in realtà ti devo dire la verità Alec io penso di non evolvere nessuno anche meno a scrivere queste cose bello di casa domani si appara luffo sì io in questa evo ragazzi probabilmente non evolverò nessuno voglio scrivere ad EA in questi giorni per dire che secondo me queste evoluzioni non sono abbiamo fatto un passo indietro incredibile secondo me con le evoluzioni queste con i bird i lo sai perché perché creano queste qua che danno il doppio playstyle creano delle basi che non saranno praticamente appabili se non penso verso fine maggio giugno ho visto che molti di voi vogliono evolvere questo Renato Sanchez ma regà io non ve lo consiglio anche quello con la doppia anche quello con la doppia evo è regà è buonissimo è per carità c'hai 5-5 alto-alto doppio playstyle però c'ha 74 di difesa 73 di tiro quindi non è né offensivo né difensivo c'ha 82 di passaggio manco a di sai che quel 82 di passaggio va boh però c'ha 95 di visione 95 di corto 95 di lungo e poi c'ha 21 di precedente no è proprio un po' basse le stasi passaggio c'ha un solo playstyle di passaggio poi va bene sì c'ha fisico dribbling e velocità però proprio a centrocampo abbiamo talmente tante scelte quest'anno grazie per la sab grazie per la sab grazie mille coronas per il prime bello de casa ben penuto potescan di po' gruppi c'è molto di meglio a centrocampo e poi comunque ci devi spendere 200k le sb stasera leon un gran terzino questo renato ma nemmeno perché c'è c'è di meglio se ti serve un attaccante felix un dc a kanji domi pronto a sculare sempre domi questo ha tre gambe certo gambe figurati ci mancherebbe altro però io non giocherei il 19 marzo con una card che ha queste stas di difesa e queste stas di fisico li tiro scusate ti devo dire voglio pure tralasciare il passaggio ok mettiamogli un asterisco ma proprio cioè mi sembra una card mediocre questo se fosse uscito tre mesi fa durante i toti ti avrei detto ok facciamolo perché so che è renato sanchez è renato sanchez e magari tra due mesi però vedendo come stanno andando le evoluzioni vedendo come stanno andando le evoluzioni non è che io mi sento di darvi un consiglio ah si questo se appa tra due mesi ma si figuri corrona a questo punto è scavativo gruppi bello mio buonasera sozen è buono giusto per uno che ha iniziato fc e vuole uno subito per competere un po ah sono tutte e due gradi sai vabbè perdonami sono confuso kung fu panda mi sta facendo tiltare sia boni signor force sabbat ciao donkals buonasera si si ve l'ho scritto nel gruppo abbonati stragi strano la guijarro la guijarro me l'hanno mandata un paio di un paio di ragazzi la trovo ancora la trovo ancora acerba come te lo dì 81 di finalizzazione è poco la velocità è poca l'aggressività è poca le stats difensive non sono incredibili per le stats sono tanti ok 79 di agilità anche qua c'è di meglio a centro campo secondo me signori le campane suonano mancano 30 secondi all'orario più bello delle nostre giornate mi raccomando spammate quella emot come se non ci fosse un dopo domani perché signori tonight potremo vedere un golosissimo un golosone un incredibile un magistrale un magnifico fantasmagorico incredibile devastante luis open da 5-5 o 5-4 o 4-5 perché signori sono le 19 diciamolo insieme sono le 19 vediamo mamma yei cosa ci ha droppato ma prima di qualsiasi altra cosa andiamo a fare l'accesso giornaliero bronzone altrimenti ce lo dimentichiamo mettiamo nesler taub qua dentro fortissimo facciamo l'accesso giornaliero ultimate birthday e poi vediamo mamma yei cosa ci ha droppato allora 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 eccolo qua doppio luiso open da aaaah 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 allora sono uguali giusto stessi playstyles stesse stats va bene capocciata e razzetto tre sfide 1 e 5 4 e 1 e 4 5 io credo che io credo che non ci sia proprio storia io credo che non ci sia proprio storia su quale dei due debba essere completato o meglio allora in realtà la card non mi sembra incredibile 98 di velocità con il razzetto il tecnico gliel'hanno messo che lui non ce l'aveva rapido lasciato tiro a giro capocciata potente su un giocatore di 1,77 va bene c'hai 99 di elevazione 99 precisesta solo un più uno di forza tiro me sono d'accordo per il tiro dalla distanza ovviamente solo a tt a t però 5 e 4 questo potrebbe essere una rottura di cazzo incredibile openda openda tendenzialmente quest'anno è un rompicoglioni vergognoso alto normale come war ci posso stare come attaccante da da provare sono 3 sfide 84 87 88 graziano vediamo se è uscita altra roba nanana nanana no aggiornamenti vabbè si è si è refreshato il picco 85 che mo ci andiamo a fare il picco 81 20 82 ok sfide nada icon non credo sia uscita altra roba credo che dovremmo aspettare venerdì ok andiamo a vedere se è uscita qualche evo non credo ricetta segreta tutto fare magia anniversario magia anniversario no ok ok ah si è refreshato il picco il pic campagna si è refreshato il pic campagna o non è stato inserito uno nuovo il procatore ha scelta jolly versus o menzioni 88 più ah è stato cambiato invece di 87 adesso è 88 84 85 prima invece era doppia 84 con if giusto jolly invernale o to no menzione di toti ma toti jolly invernale o menzione d'onore leon legge bene ci sono le maglie exidino obiettivi web app no la web app ragazzi mamma mia allora se alle 19 mi dite controllo i contenuti quello che è uscito dalla web app non vi ascolto perché se controllate i contenuti dalla web app siete dei polli dove stanno le magliette di exid ah forse devo uscire e rientrare fammi uscire e rientrare fallo jolly fallo quel pick ma il pick quello il pick quello come si chiama campagna le ha spammate il bot vediamo roba di compensazione no ma magari c'ha ragione per carità ci mancherebbe altro il bot dice menzione d'onore todi mototi il bot dice menzione d'onore todi raga quindi volvo bastoni non ha ganji secondo me si raffo meglio meglio evolvere bastoni ah eccole qua continuano a operare l'azione fc pro con la obiettiva exid ah maronna che bello finalmente finalmente i signori di exid ah tu intendevi per le maglie tu ria ok 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 nei pick ho trovato men di fantasy e mo roberto caro roberto caro se si fa credo incredibilmente in culo spina allora andiamoci ad aprire vai nichel andiamoci ad aprire un attimo il pick 85 aspetta che io forse ho delle robe qua che cosa ho qua ah gerard moreno è da breeze le sfide per openda sono differenti no in teoria sono uguali 84 80 84 allora questo è il 5 skill giusto 84 85 87 88 84 87 88 mentre il 4 5 85 86 88 cioè quello 5 piede debole costa di più però non ha if però non ha if richiesti mentre questo si c'ha una rosa 84 invece di 85 però la 87 c'ha l'if non ho mai visto questo callo ma no non mi fa pensare la tator domenica la gara si 5 ramadine chi cazzo sa guarda il 5 ramadine la gara la gara vabbè allora facciamoci un attimo il pick 85 qua va bene maxedito grazie allora dove stanno queste qua chi erano chi erano chi erano chi erano chi erano chi erano un 84 e un 83 Gerard Moreno e chi era l'84 Dabriz eccola là eccola là eccola la sta putroccola e l'altro invece è Gerardo rosa 84 c'è lo sveglia alle 4 e mezza ma io io sto pensando quasi di non andare a dormire domenica ma guardo direttamente in after sai come c'ha la 86 al posto della 87 vabbè regà a quanti di voi interessa questo pen da titolare costici quel che è costici è molata puttavia molata ok è uscito nel negozio un pacchetto di gonaber garantite si è uscito tipo 3-4 giorni fa non ricordo 2 giorni fa verner 1000x beh è probabile però questo è 5 skill attenzione raga 5 skill un giocatore del genere una rottura di palle incredibile si abbiamo anche già aperti in live philips ne abbiamo aperti 3-4 non vorrei sto picchettino 85 il drop me la bella vabbè dai vabbè dai me la 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 posso me la posso me la posso accollare mettere rushford nella evo se non c'è niente di meglio no danny guardati il video guardati i video li stanno su tiktok danny ma troppa davvero ha ragione e banni volendo è pure più esterno che punta rispetto a burner vero solito culo da streamer no ma non credo invece sto pic di merda cosa richiede 84 85 vai jolly ma io me lo voglio pure fare sto pic ma non serve a niente jolly invernali non metterei nessuno titolare se non van dyke e quando lo trovo van dyke versus non metterei nessuno titolare né fire né ice nessuno non ci possono trovare icon ciò l'otto menzione d'onore chi metto di tutta nessuno abuteias sta bella che è morta in 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 bara nel mio account tanto sei ricco no 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 non sono ricco no so sempre il mercoledì pomeriggio manco ne mar e che me lo devo fare ne mar ker toti o mbappé mbappé leggermente sotto 300k entrambi io vengo io però mi chiedo una roba mi chiedo una roba e vi chiedo una roba avere cioè è meglio così la sbc che ce ne sono due perché uno si dovrebbe completare entrambi io non capisco avendo anche le stats uguali oppure è meglio come era prima che c'era una sola sbc pic tu la aprivi e c'erano le due versioni 17 io ho fatto ho fatto ho fatto bastoni e dove stai michel grande santo grande luca marone 23 mesi tra un mese sono due anni bello di casa marone ben tornato e punto scativo gruppi come cdk come era prima soprattutto se sono uguali penso di essere appena morto che cosa hai trovato hai trovato bergamp è una bestialità il fatto di ripeto penda per chi non si accontenta rovella per chi non si accontenta in questo caso penda per chi non si accontenta djb differenziano comunque un minimo per il prezzo ma non ha senso per me due sbc diverse scappati di casa ma questa è la evo si è la evo ma c'ha solo 80 di aggressività varan che bel dc questo perchè ce l'ha hai trovato troppo forte chi lo sorlott 20k di giocatore sorlott è una bestia disumana forse lo fanno per le evo no non credo si che ecco sono troppo curioso di questo penda ma ce l'andiamo a provare vuoi andrew buonasera che è uscito stasera uno penda allora signora abbiamo un 1084 in francia dc reynard 1084 e 2082 aspetta che mi è arrivata un'immagine ma come picco 85 gullit ma come fate a trovare sta roba picco 85 gullit ma come fate a trovare del picco 85 gullit mio fratello gullit mi tremano le mani non so se riesco a prenderlo i gif sono più utili e ma c'ha la doppione lì se ha le palla tra l'altro pure henry tra l'altro henry e gullit ha lo stesso pic mandalo a john che è bestia in mainstream ma chi è chissi è la regola dei 5 secondi in chat che si è intesa mettere in rima sai un finalizzatore attenzione spagna dc barsa ah no è paredes questa poi sotto lavello arrivo d'arrest a intro max grazie ho trovato gullit 91 ma è un trattore non work oh manco un doppione si gode è solo pick henry demir by milinkovic savic ancora portugal paligno paligno se fosse stato scambiabile se fosse stato scambiabile l'avrei provato a dare a john vabbè ti ringrazio solo per il pensiero figurati divertiti perché è un giocatore clamoroso questo gullit veramente è un giocatore che non ha senso ma lo faccio rivedere un'altra volta in azione ok michel io la ringrazio per questi due pacchettozzi veramente grazie grazie comunque mo adesso max posso entrare ah no aspetta aspetta mi vado a fare un attimo il mio picco il mio secondo picco 85 che non si sa mai mi è arrivato mi è arrivato mi è arrivato un altro messaggio doppio 81 non ci credo ah vabbè benze ma io ve lo dico cosa ne pensate cioè voglio sapere proprio la vostra opinione proprio nuda cruda pura anche quello che vedete in giro perché voi lo so che bazzicate in giro quanto è alto il drop di questa promo quello 5 skill just decumo ce l'andiamo a provare anzi se padillac gentilmente mi cambia il titolo della live che c'avevo qua come doppione 4500 fc points com'è possibile eeeh boh più alto delle precedenti ma di molto tantissimo troppo alto alto discreto dove lo usi gullit ovunque non ne parlavo proprio poco fa con max ma lo stiamo usando cc ma quello secondo me è da usare atd ats testo penda si allora devo fare una rosa 84 qua io non ho non ce le ho le 84 ho questi qua ma mi servono per potenziali evoluzioni oddio in realtà walker lo potrei anche buttare così come io rente ma si mettiamoci questi tanto lo puoi giocare ovunque raga pulisic fortissimo duri hanno alzato il drop ho beccato pure che non trovo mai nulla infatti raga chi io credo che chi non stia trovando niente è perché apre solo pacchetti brutti grazie padillac la ringrazio incredibilamente aspetta forse possiamo anche abbassare un altro po' allora picchettino 85 signori è gullit tommy che pacchetto apro quello che vuoi è l'85 più trovo di 85 e ma ti faccio vedere qua che troviamo allora christensen no è la doppione ok vai prima aveva troppato pajor e un'altra un'altra bird mo odegard no no avevo stoccato dice e ma te li sei aperti nella tua cameretta puzzolente cassani però te lo meriti olè era un giocatore che ho già voluto in passato a cascattare il vecchio sì però non lo fare perché c'è il rischio che te banni no te banni no te debugga tutto il gioco 2082 ho fatto anche 2084 nella season ora nel pick of undersar allora perché perché ziek quando vi esce ziek sembra l'animazione del bird lo vedete il bordino della card sotto il bordino di ziek che c'ha quella quella sgommata di viola quello è colpa di quella sgommatina sciordata di violetto che è lo stesso violetto del bird la stessa palette del bird la notte se stai sveglio facciamo pacco e vabbè ma io ce devo fare contenuto in live mi scusi come fai tu la madre però non è viola padelack poi come fai a sapere che io ho quel tipo di contenuto mattutino allora signori it's time to lavello nel pick tu fai live quando sto a lavoro e non vado più a lavoro semplice it's time secondo me secondo me se tu chiedi al tuo davvero di lavoro no ma tu sei no tu sei libero professionista Cassani giusto sì quindi sei il capo di te stesso puoi permetterti di stare una settimana in ferie senza lavorare per aprire pacchetti su ultimate team sai tipo quella sai tipo Cassani quella quel meme di quella no di quel meme cioè quel film si chiama il presidente signore ma è lei il presidente allora so già tutto Felipe Anderson doppione ah Max ci ha anche preparato il doppione ma dove immaginate Gullit doppione Rafignolo vabbè ti prendo lui te immagini Gullit ma te immagini Mesh e Henry 5 skill Stach vabbè vieni 80 87 ma lo goderei tremendamente allora 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 dove sta dove sta dove sta dove sta il bro eccolo open down che metto a save anche base va bene se no ombra però io l'ho giocato con base allora togliamo un attimo questa dallo schermo e andiamo son doppione chiedere possibilissima come roba ma come grazie capocchia palilac come openda benvenuti su topflop dove testo le carte così non devi farlo tu è meglio il 5 skill il 5 debole va fatto intanto lascialo a confollo per la review ma che cazzo sta facendo questo openda intanto e si inginucchia o prega dall 81 più un bel van dyke base no infatti non malen nel pacco da 5000 ho trovato kk base eeeh si devi vedere che alla fine del pacco c'era c'è un altro c'è un altro icon allora guarda quanto è bello guarda quanto è bello quell'uomo ah tra l'altro poi dai premi della weekend league di max ho trovato con a te stanotte eduri questo comando di pulsi che vecchio allora openda per chi non si accontenda dobbiamo mettere un po' di bundesminchia qua c'abbiamo comando dobbiamo fare così aspetta eh aspetta come cazzo faccio aspetta lui però lui può giocare pure a destra si lui può giocare pure a destra e poi gli serve un belga potrei mettere un allenatore belga base base la regola qua non ha assolutamente senso fargli mettergli nulla metti orban no mi sa che non c'è sta l'icona barra dei garantiti non me l'ha data stava alla fine del pacchetto Robby no non c'era ah kanji finito me lo voglio me lo voglio provare lui può fare il cc eh no che gli metto come bundesliga per portarlo a tre devo mettere semplicemente un allenatore belga c'è qualcosa ah c'è un wolf wolf al posto di quadrato lui che di squadra è dell'ipsia ah c'è simons ah c'è go senza ragione eh no però non mi serve roba di bundesliga aspe mi serve roba del belgio mi serve un belga non mi serve bundesliga debruin toti in prestito tide vabbè ma sai che c'è ma che cazzo mi frega ma io ci metto l'allenatore fa niente se gli altri scendono un po' abbiamo frankie company qua va bene così a poston allora il nostro amico il nostro amico gli mettiamo un bel finalizzatore questa è proprio la card da finalizzatore proprio ma sai come eccolo è meglio il 92 di van der sarah matta allora poi lui premier sta un po' a pezzi qua vabbè non fa niente dai a ganja 1 va bene oppure potrei togliere un attimo ma sti cazzi open da socrates coman puli tu carte rolf hernandez bastoni a ganja quadrato vamonos ti ho appena risposto matta non spammare meglio van der sar 92 allora allora no 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 let's go buongiorno a posto di a ganja noi me lo vorrei me lo vorrei provare a ganja è voluto anche se secondo me ti devo dire la verità non cambia tantissimo però vediamo orban ma se ne si ma questo se non si sblocca ah beh c'è Berner che squadra di merda che c'è questo van der sarah ragazzi il birthday è uno dei portieri più forti del gioco io ce l'ho anche sul mio account e mi sta piacendo molto vi devo dire che prima c'avevo Yoris e a me Yoris piaceva molto però questo van der sarah mi dà una mi dà una sicurezza molto interessante i portieri sono personali lo sapete non vi aspettate che se mettete un portiere piuttosto che un altro non perdete le partite perché se siete scarsi siete scarsi con tutti i portieri del gioco e infatti per quello non ho non ho voluto fare a kanji proprio perché secondo me le differenze non sono proprio eccezionali ma secondo me in realtà questa evo è abbastanza andando a vedere un po' gli upgrade questo palesemente è un secondo account regà palese proprio openda dentro per socrates c'è pure la capocciata eh boom il 5 skill vegeta il 5 skill il 5 piede debole raga non dico che non serve a niente però non serve a niente nel momento in cui costano praticamente uguali preferite sempre il 5 skill mamma mia coman grazie marigliano sta pieno di secondi account ma perché c'è poca roba da fare capi e avendo essendoci poca roba da fare al lato gameplay la gente preferisce farsi un nuovo account e ricomincia da quello lì e il problema è che tendenzialmente per poi stare al passo con i secondi account giochi come un tossico per vincerle più velocemente le partite bravo openda sprint boost di openda corri openda laggiù tutto perfettamente calcolato si Gianfranchino siamo stati praticamente i primi a provare quel pulisic appena è uscito subito l'abbiamo trovato l'abbiamo messo subito in campo e il 5 skill di pulisic per quello che costa è molto interessante oh 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 che minchia è successo è uscito il piccai così mi pare si sia refreshato ragazzi lo sprint boost di socrates è qualcosa di abominevole c'è anche chi lo crea perché crede al fatto che i nuovi account sculano vabbè la figura mi servirebbe un aiuto non essendo tanto esperto quando si è attivato l'email c'è qualcosa che posso fare per recuperare l'account contattare l'assistenza EA punto scantico assistenza e basta quadrato come si ottiene la rivista di questo evento comprandola nel negozio la trovi nello shop ve lo giuro ragazzi questo Madsen del Borussia il fantasy è un fastidio incredibile da giocare perché come potete ben vedere quello è un metro e sessantotto se non mi sbaglio ma ha un body type scusatemi ma ha un body type decisamente più grosso 50 punti da Bayerina faccio lo cazzo ah è giusto perché tu ti sei preso le maglie no 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 Bobo a funzionare funziona è solo graficamente che non non si vede è da inizio anno che è così oh che bella finalizzazione qua qua ho premuto anche l'R1 per il tiro a giro mi potete gentilmente dire Footbin quanto riporta per per questo per il costo di questo penda hai salvato la mia sanità mentale vai tranquillo Babble siamo qui a sua disposizione però per questo 300k controllo L1 scorsa boom oddio 300k ti prendi di meglio oddio aspetta non perché tu non abbia ragione ma semplicemente perché non lo so che c'è di meglio per 300k come ATT 5 skill cioè non non me li ricordo la domanda è proprio una mia curiosità 5 5 4 5 4 per 300k meno meno di 200k torres evolutions ok ci posso stare me l'accollo boom palo gioco Pedro mi ha detto 5 no 5 skill bisogna paragonarlo a 5 skill crisp evolution che però non ho provato quindi non te lo so dire se è meglio però ti posso dire che ti posso dire che essendo una icon tendenzialmente questo belga di bundesliga dell'ipsia capi banca di del bayern palo ginola il ginola costa 300k ginola base costa 300.000 crediti il base sta 380k l'ha ammazzato Socrates è la prima partita Tomasso non lo so ancora e reboot board è finalizzatore parai o penda sei un nano di merda Rudiger Firenze che significa Rudiger Firenze prossimo prossima indiscrezione di mercato here we go Rudiger acquistato dalla fiorentina ah Rudiger Firenze una win ma si deve succedere anche che tanti hanno almeno 4-5 icon in squadra beh questo è vero però 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 non lo so se non lo so se comunque consigliare per esempio se vai a fare un paragone tra ginola e open da a livello di ibridazione io dico ti consiglio nonostante il fatto che magari la gente abbia le icon ti consiglio sempre una hero no no smith smith bird non c'è smith bird ho venduto un bappé perché stava perdendo no vabbè ma un bappé è una card che si compra e non si vende mai indipendentemente dal prezzo l'icona che vorrei di sta proprio è zambrotta e beh max io gullit come vogliamo fa è meglio davis di roberto carlos openda controllo sprint boost finalizzazione era lontano va bene ci sta no la smith la smith non è più giocabile raga rolfo controllo e tiro metto lui socrates e tevez con rush for the og bene super sub io regalo salberto gullit non lo vorresti quest'animale di gullit a ganji no fallo questo gullit quanto è game changer 12 da un voto da 1 a 10 e 12 come game changer perché dove lo metti lo metti per forma e soprattutto è di una facilità di utilizzo estrema cioè questo è un giocatore che un player di divisione 10 che ha iniziato a giocare ora per la prima volta mette gullit in campo fa quello che vuole gli funziona no perché tanto Ugarte Evo Ugarte che animale e qua venda non scappa a me del sinistro prima parla di ribber durante l'apertura dei pack ragazzi nel momento l'ho trovato vedi vedi Diego e non sei manco abbonato penso se fossi abbonato faccia per terra bravo Gironola non piace parlo del tema minaccio è pesante vabbè Gironola si è un giocatore pesante ho paura di sbloccare Socrates perché nel breve potrebbero uscire carte più performate col fatto che fa solo il ciucci a volte è problematico abbritarlo su questo sono d'accordo io vi dico di aspettare venerdì e addirittura domenica per per vedere cosa mamma IE ci droppa nell'SBC Bird della settimana 2 mi aspetto secondo me qualcosa di ancora non dico di ancora più forte di questo Socrates però qualcosa di forte quasi quanto o magari come Socrates e Faro no secondo me chiede troppo Bastoni Varane buongiorno Rüdiger a 3 Bastoni Varane buongiorno no il Rüdiger per me non è superiore a quelli là che hai Faro che bomba sto comando che ha tirato Sony if 190k vabbè però Sony if è abbastanza arretrato come card la evo la evo è più forte di quell'if doppio playstyle poi la quinta stella skill è vero pure questo penda c'ha la quinta stella skill mi ero scordato perchè riesci tanto le 5 skill al 5 pede debole perchè con la quinta stella skill tu ti puoi aprire degli scenari di campo di azione puoi girarti in un fazzoletto che altrimenti con il 5 stelle il 5 pede debole non potresti non potresti non potresti fare non avresti in più il 5 pede debole è relativamente inutile più andiamo avanti con il gioco perchè i giocatori con le stats così forti così alte se devono segnarti con c'hai 96 di finalizzazione 92 93 94 ti segnano lo stesso bastoni o a ganji a parità di upgrade c'è 90 90 a ganji è più forte di bastoni è anche più semplice da utilizzare è più mobile con l'upgrade della evoluzione probabilmente bastoni supera di poco a ganji con l'upgrade della evoluzione stiamo usando openda con 5 stelle skill i reverse elastico ragazzi sono qualcosa di con questi giocatori con questi playstyle e queste stats di dribbling sono qualcosa di demoniaco ve lo giuro è troppo bello fare i reverse elastico con questi player si si ora facciamo è la prima partita c'era un video di cui parlavi con minersevo si assolutamente si è è più forte terrestre sevo di torres winter come stats interne è leggermente più scarso l'evo leggermente proprio però come playstyle è migliore e io sono sempre convinto che è meglio avere più playstyles forti rispetto ad avere delle stats migliori se si parla di scarto di 1 2 3 stats di 1 più 2 sai queste robe così è meglio avere il playstyle decisamente tutta la vita vedete che comanna è passata quasi una settimana vedete che comanna alla fine quasi nessuno di voi si è sbloccato è una di quelle card che ok però è ok poi dopo buonasera minor sif che avevo consigliato e qual era la prima delle borde che è uscita se non mi sbaglio c'è un buon regista secondo me però c'è di meglio no caso probabilmente hai quittato tante partite di fila e sei stato soft bannato tanto questo ha piato 8 scopole così come forte questo quadrato gullit open da controllo sprint boost a quel prezzo non so quanto cosa c'ha i dodì però di centrocampisti ce ne sono 950 milioni di miliardi per esempio la rolfo per il prezzo che aveva per le potenzialità di upgrade che praticamente adesso prenderà tutti è troppo più forte di tutti 600k è la rolfo 600k era troppo più forte il reverse elastico quale certo lo faccio vedere subito questo con annesso fischiattino questo è elastico ok a cange bassone mi usare sommero dunfries dunfries no sommero è troppo basso come portiere bastoni so gratis dentro però penna controllo sprint bost una suola r1 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 suola mi scarto il portiere faccio gol no comand non l'ho consigliato io punto scantico comand hai trovato van der sarre schweinsteiger nel 2082 che bello un pacchetto con doppia icon soprattutto due icon buone come van der sarre e bastian no volevo fare il 10 a 0 sembra agile ma chi venda mi sapresti consigliare un giocatore che è come george best un giocatore come george best di bala si vegeta solo a te non è uscita vabbè perché a te te ne sono uscite 18 in una sola vax grilli 5 il pack comando open comando è un esterno open è un att no dob no simile a rino no no a rino perché a rì è un metro quant'è a rì un metro 88 questa è 1 e 77 no no o Henry deve giocare coi doppi passi questo deve giocare di L1 più corsa no molto più agile di Henry no per Pogba non comprare i portieri ho tolto Craif per Coman e messo Socrates mezzala metti Coman mezzala e Socrates avanti ho visto Kultuase ha rotto il menisco il più divertente tra i due solo perché ho fottuto a buttare tra Coman e Openda non lo so ci ho fatto una partita con Openda perché non non lo posso comprare Andrew ci servono i crediti per fare SB sì 300k costa questo Openda stiamo provando il 5 skill mamma mia quel Socrates quanto è forte io ve lo giuro ve lo giuro se non ve fate quel Socrates vi perdete un giocatore che non ha senso veramente vi perdete un giocatore senza senso senza senso senza tempo sto tirando da troppo lontano il signor Openda ha 79 di tiro dalla distanza sì no 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 Giuse sono serio sono serio sono serio mettiti mettiti Coman mezza ala che si allarga e Socrates avanti veramente senza senza avere Gullit e Socrates titolari arca troia gli skill hai fatto dopo l'elastico era la Megidi annullata questa Socrates a TT Socrates può fare tutti i ruoli dal cc offensivo all'attaccante pure a TT singolo te lo lo giuro c'ha una finalizzazione che non ha senso Openda Openda chi aveva c'è sta bombona bom la skill si fa facendo la Megidi semplice con i 5 stelle skill quindi aspetta che ti prendo un 5 skill ecco qua quindi fai avanti e poi su o giù avanti poi su o giù e contemporaneamente annulli premendo l'analogico premendo L2 ed R2 ok e contemporaneamente a quando annulli con l'analogico sinistro vai nella direzione opposta a cui vuoi andare si Taranto assolutamente si non so se avete visto il reverse elastico di Gullit si 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 no beh è lo stesso body type della versione base Taranto Roberto Carlos no Alessio assolutamente no certo Mariano assolutamente si lei mi può chiedere tutti i pov che vuole non esca di o barra Luca uff ch tutta la vita lo farei eh qua bel friariello si è fatto openda eh reverse elastico con il friariellone all'avversario dob se mi volevi chiedere un paragone per quanto riguarda openda è molto simile a Werner cioè se il primo il primo se devo dire il primo giocatore che ti viene in mente paragonando questo penda Werner ha senso farsi Hernandez nella Evo o meglio Torres no meglio Torres no 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 Mariano no io non penso che il player lock sia una meccanica tossica assolutamente il player lock è una meccanica che ti crea uno skill gap senza senso così come l'inserimento direzionato eh ma prima se non mi sbaglio ci ho fatto il gollo con l'inserimento direzionato io penso che chi utilizza il player lock nelle divisioni basse è tra virgolette non tossico perché non è tossicume è è non necessario cioè come te devo dire non è necessario utilizzare il player lock nelle division rivals in sesta divisione cazzo si fa il player lock in sesta divisione cioè fai due passaggi è la stessa roba no cioè o meglio la possono fare ma non è non ha lo stesso esito i quattro stelle skill la meghiti annullata con i quattro guarda la faccio vedere questa è la meghiti annullata con i quattro skill non hai non hai quello slancio che hai con vedi con come se con 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 i cinque skill non so parlare il player lock è una meccanica che ti permette io adesso non ce l'ho attivo che non lo uso è una meccanica che ti permette di controllare un giocatore che non ha la palla e portartelo dove vuoi nel campo e fargli fare un pallone e fargli fare un inserimento nel mentre che un altro giocatore quello che ha la palla è controllato dalla cpu no non è che non può usare semplicemente non è necessario il il livello di applicazione che tu devi inserire all'interno di una division rivals bassa di martedì mattina alle 10 del mattino non è non è tale da richiederti l'utilizzo di una meccanica così avanzata come il player lock ok io lo so usare il player lock certo non sono bravo a utilizzarlo perché non lo pratico tutti i giorni non è una meccanica preferisco l'inserimento direzionato questo con le freccette che è praticamente come se fosse il player lock però tu hai sempre in controllo il giocatore che ha la palla sì il player lock è una meccanica tendenzialmente utilizzata dai 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 giocatori competitivi con i turchi in settima sempre ma sto giocando in rival se max per la weekend league per lei è da tossico no dipende 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 da sai se anche dalla squadra che incontri da zanzara di merda anche dalla squadra che incontri se incontri quella squadra tutta full oro che fai player lock c'è qualcosa che non va capito poi incontri la squadra bella meta eh allora ti dico vabbè ok come si fa con le freccette cliccando L3 ed R3 cliccando i due analogici e poi con l'analogico destro dovete selezionare un altro giocatore come The Switchust a posto massime avendo la Guigiarro conviene fare la Evo no cominciano a non subire gol dai bastardi che si alzano il pallone e fanno la rovesciata e fanno gol andare su next gen sasigno punto scadio barra lol poi ti devo dire la verità per le meccaniche tossiche secondo me ce n'è una ed una sola che è quella là vi ricordate dell'avversario di ieri sera quello là che salzava la palla e e faceva il filtrantone quella è una meccanica tossica bravo bravo sto quadrato lol punto scadio barra ah che brutto sto controllo palla lo sto provando Pantax ma tu non hai bisogno di queste cose Andrei tu non hai bisogno di sapere come si fa il player lock come si fa la megidi annullata a te non serve sapere imparare cioè tu non devi imparare a fare ste robe perché tu sei ancora un player acerbo sotto sotto dei fondamentali base fare il coaching privato è anche è anche questo cioè avere un coach che ti non ti dà mille miliardi di nozioni che a te non servono perché tu non hai ancora un livello tale da poter dire faccio le skill annullate o o faccio i player lock le skill annullate i player lock sono da player che fanno 18 mentre cagano perché devi partire dal presupposto che quando tu fai una skill annullata è perché tu sai fare innanzitutto prima la skill cioè quindi sai la skill base a cosa serve saranno john parano john serale come va signor john com'è andata com'è andata la l'evento con i signori della salernitana e i signori di clash che saluto ci sta a sostituire la sawa con maghelele per ora lei è la rolfo la sawa sia la sawa che maghelele secondo me sono un po' fuori metà la sawa secondo me è totalmente finita come giocatrice giocabile ma ancora ma insomma maghelele è piccolino quindi no avendo verner da fare open da emo ne parliamo raga finisco di fare il test a riello e ne parliamo i più tossici sono che dal kickoff partono con un giocatore da solo ma quelli sono i più facili da difendere un giocatore contro quattro difensori più magari centrocampisti regala dai abbiamo capito michel grazie mille per dirci che sta in divisione 6 e non fai player lock lo so immaginavo però la Sawa in realtà è ancora ottima ok per me no per me non l'è mai stata in realtà a me non è mai piaciuta la Sawa quest'anno blank bird e i amè baganji o bastoni di conseguenza l'avevo su chi è fare i bastoni a quel punto quadrato e d con un cafu td chi devi togliere punto scadio bar lol loz tengo viera base o prendo SN dodi tieni viera biase no a me non è piaciuta la Sawa perché io trovo che i giocatori piccoli quest'anno non sono efficaci figura di lol dovete vedere il centrocampo secondo me è una mia ipotesi è una mia idea è un mio stile di gioco non sto dicendo che è la più giusta è quella che io preferisco consigliare di più alle persone dovete vedere il centrocampo come se fosse un enorme muro ok un muro che voi costruite davanti la vostra difesa ora immaginate che questo muro è fatto da mattoncini di un metro e sessanta un metro e settanta e poi immaginate lo stesso muro però fatto con giocatori di un metro e novanta mattoncini di un metro e novanta mattoncini di due metri mattoncini di un metro e ottantacinque viene da sé che un muro con dei mattoncini alti un metro e ottanta e larghi un metro e ottanta è più ingombrante ti copre più spazio e il gioco di quest'anno funziona esattamente così è un gioco che ha bisogno di avere i mattoncini più grandi al centro del campo soprattutto anche poi in difesa soprattutto perché poi il gioco sta prendendo una piega dove i giocatori offensivi esterni attacca socrates ginola leao questi giocatori così hanno body type grossi nel momento in cui l'avversario ti va a contrastare ti viene a rompere le palle su questo muro con dei giocatori di un metro e novanta e tu c'hai il mattoncino da un metro e sessanta e quello te lo scavalca come se fosse un fuscello d'aria fresca di no d'erbreta fresca capi? dobbiamo impegnare per partire a quel livello di c2 in un momento il livello è da 11-12 si 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 andrei ti ho detto il problema principale è anche una questione di testa oltre che di mani perché tu le cose le sai anche fare a te è la testa che deve essere sistemata in game capi? no non sono tutti fodder secondo me peppe ci sta quell'attaccante che non è male e anche quel come si chiama callen non è male la sava non è come gli altri c2 metro e sessanta a me sta ovunque e hai detto due cose diverse la presenza su tutto il campo è diverso rispetto a quanto è grosso un giocatore ci stanno se vuoi vabbè eduard callen no non credo che eduard callen sia stato messo all'interno di ultimate team buono quel felix si kevin adesso vedete kevin me lo riscriverà 12 volte perché lo sta scrivendo nelle chat di tutti quanti è giocabile a shield certo è capito adigot poi che che ti piaccia e che piaccia a tante persone va bene io comunque le die di tipo 7 7 e mezzo ma non la consigliai per esempio per me la rolfo che è un metro e settantotto non è un metro e novanta rispetto a un metro e sessantatré se non mi sbaglio se non mi sbaglio della Sawa è 200 volte più forte non 3 è 200 volte più forte tutta la vita Antoninio lo farei no no ma figurati adigot ci mancherebbe altro ho semplicemente spiegato il mio parere Bruno un toti giftato fatto prima non so se c'è Stavi Giuse il paragono con Schweinsteiger icona che è uscito qualche giorno fa e noterete che Bruno è 10 volte più forte di Schweinsteiger Van Dijk Carlos Alberto Blank Bastoni Buongiorno eh Van Dijk sicuramente è l'altro devi vedere tu quello che ti piace di più tra Carlos Alberto e Blank devi vedere quello che ti piace di più capito male io perché tutto sto raggiamento vuole arrivare quando si dice che il player lock è tossico in VL perché è da pro non riesco a capire la differenza con reverse skill annullate no infatti sono d'accordo con te Mariano completamente con questo discorso bisogna rimettere Gullit per me Gullit è il centrocampista più forte del gioco stop poi ci sono ovviamente delle non dico delle eccezioni però dei giocatori che nonostante la stazza si rendono comunque bene se ci pensi Bruno Fernandes non è un gigante ok la differenza però è che Bruno Fernandes non va usato come la Sawa per sempre per rimanere sotto questo punto di vista Reis e Rolfo secondo me è ben assortito come centrocampo che Rolfo è un metro e settantotto ti fa la box to box la jolly di centrocampo Reis ti fa legna un bel 19 eh ci sta la Rolfo ragazzi domani io non vedo domani penso intorno alle quattro la settimana scorsa se non mi sbaglio alle tre fecero gli upgrade la mattina la mattina li fecero perché stavamo in live se non mi sbaglio mercoledì scorso ma perché stavamo in live mercoledì scorso di media quanto fa in WL non ho una media perché in base a quanta voglia io c'ho quella settimana due settimane fa ho fatto 18 la settimana scorsa ho fatto 14 questa settimana ho fatto 14 la settimana scorsa ho fatto 14 e ne ho regalate 6 questa settimana ho fatto 14 e ne ho regalate 3 ah c'era la patch è vero avete ragione avete ragione avete ragione quindi secondo me domani l'upgrade lo fanno pure là intorno alle 13 mi pare stavo sì stavo 14 0 sì sta arrivando no forse 14 1 quella là che perdemo in live sì stavo 14 1 Sizer sì sì mi si pure la foto su mi si pure la foto su Instagram che stavo 9 1 e poi andai 14 1 sì sì e poi ne ho regalate 6 perché ho detto che era arrivato era arrivato lunedì sera eh non mi ricordo esattamente lo score la forma sai no ho detto ma me la gioco vedo com'è stavo un po' stanco ho detto vediamo se questo qua mi ha una gifta sai vediamo un po' e nel caso se me la gifta continuo se no lascio stare zanbrottone bird eh zanbrottone bird io gli metterei o un'ancoretta o un sentinella o se no vai sul classico ombra arrivederci venno diventa simpatico con l'app mo per esempio no vi faccio vi faccio una domanda un po' facile secondo me tra un werner con quelle stats 4-5 e un'openda con queste stats 300k meno di 300k e 5-4 rispetto a un werner che costava 600k mi pare che avete dovuto aspettare quasi un mese per per il full upgrade eh lo so aricot eh lo stiamo provando lo stiamo provando questo openda ce l'abbiamo in campo ho messo il modulo ma questo che sta facendo ma questo non sta giocando qualità prezzo penda eh vedi ciao fabio coppia in difesa company guardio le agangi eh ma sai che ti dico guardio la gangi si tex ma anche motore in realtà ok ok motore motore per benzema motore per benzema buone panichetero buonasera no ho finito l'acqua ho bisogno di bere let's go musa la menzione ancora utilizzabile se lo utilizzi con r1 si altrimenti e schillando si altrimenti no telegram padlock benzema è un buon giocatore secondo me si veramente al posto di ocafor che sta bollito eh sono due giocatori diversi secondo me belle vibe eh la finalizzazione è molto buona eh classico giocatore da l1 corsa si schilla bene mo 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 parliamo come sembra socrates non ho visto le review dai un'occhiata alla review nocella punto scantivo punto scantivo socrates e poi magari mi fai mi fai le domande dopo aver visto il video 5 skill panichetero a parità a parità di costo eh che credo che se 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 come si dice cioè differenza di di 20k forse tra il 5 piede debole e il 5 skill preferisco sempre il 5 skill togli il pilota automatico che muo arrivi in elite eh ma già già per esempio già per esempio nel mio account che mo sto risalendo dalla 6 alla 4 le ho vinte tutte quante e ieri sera ne ho persa una ne ho persa uno un altro ragazzo c'era Cristiano Ronaldo Toti ma porca miseria ragazzi ma quanto è forte Cristiano Ronaldo Toti segnava da tutte le posizioni eh salattina poi ho incontrato un mio abbonato che ha fatto anche il coaching con me e vi devo dire la verità mi ha dato anche abbastanza filo dato ho vinto però mi ha dato abbastanza filo dato infatti ho scritto si vedeva che hai fatto del coaching quindi sono sono contento che chi chi fa il coaching con me poi diventa diventa bravo cioè diventa diventa fastidioso nel senso che che appa di sto eh lo so seco punta naturale si 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 ma attt centrale ma che fareai con Openda dipende da quello che ti serve a te ma attacci io non ho le capacità per dare consigli ma a me Werner ma Werner non è male che manca qualcosa però no tornei è complicato farli no Kribab no qualsiasi edizione speciale mi pare adesso è sua orca miseria Cristiano Ronaldo è rotto pesantemente è troppo forte Cristiano Ronaldo ho perso la partita ho fatto 18 partite in Rivals tipo considerando poi ovviamente quelle la di stamattina che ho fatto in Coppo con John quelle 2-3 che abbiamo fatto ma Cristiano Ronaldo ragazzi è un cazzo di treno meno male che se ne vede che se ne vede se si vede poco quel Cristiano Ronaldo perché mamma mia se lo utilizzate bene Cristiano Ronaldo può essere più forte di R9 ai contoti perché c'ha il body type super imponente quel Cristiano Ronaldo cosa che per esempio Ronaldo non ha Ronaldo viene buttato un po' per l'aria è proprio rotto oltre a essere forte c'ha quelle animazioni di corsa con le braccia che sembra Naruto le animazioni del tiro tutte rotte cioè è proprio forte si lo farei dottor XG si si panichetto eh CR755 potrebbe essere una cosa molto interessante se dovesse uscire anche io me l'aspetto ti devo dire la verità però boh non diamo nulla per scontato openda Morgan non male ora 4-3-2-1 King Kong 1-1-1 con CR722 era un trattore troppo veramente troppo forte come siamo usciti bene dal pressing qua vieni guarda no ve l'azione ho fatto proprio al bar è andato è un coglione non ho detto VL ho detto chiedere win o l'ise nel 2040 su un giocatore da 7 milioni manco sai leggere mi sa che hai sbagliato chat cioè mi sa che hai fatto copia e incolla su un altro streamer di Ultimate Team caro Leao Europa scenderà no non credo proprio scende nel momento in cui il Milan viene eliminato dalla coppa lo chiedo qui o Zirzi come unica punta volessi cambiare perché mi sembra un po' superato chi ci posso mettere Serie A o Premier con 250 no superato secondo me non lo è non so i prezzi di tutti gli attaccanti Serie A non c'è nessuno Serie A veramente non c'è nessuno no non sono Fabio Adreno Adreno non so Fabio Adreno Adreno mamma mia ragazzi oddio mi è venuta mi si è scesa la voce per fare Adreno sono volato per due secondi oh penda va bello come stai Dreno è molto forte Smeinsteiger secondo me è un buonissimo centrocampista openda è più veloce di Coman no perché Coman ha quel playstyle del rapido plus che è broken totalmente con questi giocatori così e poi c'è un body type diverso no boine l'ho provato cazzo in cool ma poi non lo posso sbloccare lo skip lo stiamo provando ancora best row squat bello mio wolf ah ancora si 4 di 1 socrates punto atti che rientra lo uso cc che cc che avanza è come se come se io lo utilizzassi poi a ts fondamentalmente ero all'allenamento sono open the door non male in realtà lo sai infatti alla 90 di socrates non si torna indietro mamma mia djb non vedo l'ora non vedo l'ora che tu ti provi sto giocatore bella esperienza volare ma mariano se vuole io gliene posso garantire uno a live di ban hai provato og bene allora mamma non è stata a dire ma non è stata a far venire a far venire auspizio allora speciale premier league quello è di premier eh quello qua og bene che auspizio ma voglio provare sto coglione che ruoli può fare ed vai rolf certo che te rinnovo il contratto rolf mitoma evo no lascia sta grani johnny posso chiederti perché stai spammando rabbiu ogbon cioè cosa ti serve sapere sì assolutamente si dio il mio segreto per avere tutta questa pazienza fregarmene totalmente di quello che succede in game perché tanto io sono più forte devi pensare solo questo devi pensare sbaglio prendo palo next gli faccio gli faccio gol alla prossima azione subisco gol next non fa niente gli faccio gol alla prossima azione la prossima difendo meglio a pare della chat e vabbè ma è credo qualsiasi qualsiasi lavoro col pubblico sia necessario di pazienza incredibile soprattutto in italia secondo me soprattutto post covid perché secondo me adesso post covid è diventato se già prima era un paese di matti ma è diventato un paese di matti rincoglioniti singo o spina evoluto è sicuramente te più tecnico spina te dico spina te dico spina og bene corre og bene corre og bene sì tex tex però bello mio quando mi fai le domande io ti rispondo sempre non spammare basta che basta che te passi un attimo il cotton fioc dentro all'orecchia ti assicuro che la senti la risposta perché ti rispondo subito solo che ci sono 14 secondi di delay tra quando tu mandi il messaggio la mia risposta e quando tu lo leggi post covid sono tutti sono rincoglioniti tutti sono rincoglioniti tutti post covid bel gol come faccio a evadere le tasse contatta padillac come siete intolleranti voi streamer agli spam di messaggi e marco devi sapere che il feed della chat è limitato io non vedo 200 messaggi in chat io ne vedo una decina se il il mio feed della chat è intasato da un rincoglionito che spamma 18 messaggi uguali su quale stile intesa mettere a pogba base mi posso permettere di rompermi il cazzo grazie mille alessandrino89 per il prime benvenuto potescalivo gruppi bello mio no da obs non vedo tutto ma anche se fosse caro marco è il mio ufficio posso fare quello che cazzo voglio io se quello mi gira le palle lo posso riprendere oppure mi dovete dire come se lavora a casa mia no il cane non è ancora entrato in scena stasera ma qualcuno di voi non so se la sa sta roba durante il durante il lockdown durante il lockdown sto cane rincoglionito è talmente stupido che ci stava il balcone bagnato perché probabilmente la proprietaria che è ancora più stupida del cane aveva lavato per terra ma con tantissima acqua e il cane scivolò e si cadde con il collare in una delle grate del 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 balcone e si appese al balcone per il collare nessuno fra sala rushford io l'ho sconsigliato nella Evo no povero boom poi che è successo la proprietaria l'ha salvato a me è capitata una cosa simile mentre ero con una ragazza nel senso che la ragazza è scivolata dal balcone e si è quasi domani raffaele domani domani pomeriggio ho sentito dall'altra parte della stanza cinque pizze con una te o cannavaro con una te anto hai visto quello che hanno ucciso a via cilea anto ma stai andando a prendere delle pizze come mai grazie per la sabba godo grazie per la sabba gullitte è troppo forte non è più da pago vabbè prendono la margherita sicuro 100% ma va bene puoi iniziare a dire addio ai 2-10 chili da perdere con le pizze no vabbè ma alla fine io non mangio male da quando francesco mi fece mi fece quella mini dieta che poi dieta non è semplicemente una alimentazione controllata io 10 chili li ho persi solo così ogni tanto ma lo sgarretto me lo lascio ma perché sennò poi io non ho vizi ve lo giuro non ho vizi non bevo non fumo non mi drogo non faccio niente almeno un magnà non mannascasso cazzo cioè non fa niente ne perderò 9,5 e mi mangio 500 grammi di pizza in più roll for up ts sì o no e perché non sappiamo ancora l'upgrade chiare e domani quando lo faranno ti posso rispondere al 100% ma in ogni caso sì lo potrebbe fare perché comunque la può fare il terzino no perché secondo me è sprecato e Marco allora metti The Bruin è uscito close molto bene Hansen base o Rafinha Hansen non so se fare open perché oggi non ho la base non ho scambiabile dopo 700 partite mi sono un po' rotto aspetta che ti faccio sto collonzo e ti rispondo no l'anno scorso mi piaceva non so se ricordi il pot ma maggio sì me lo ricordo tu che dici che poi contando che io non so skillare se non per qualche skill quale versione mi consigli ma ne parliamo un attimo save sì sì si va bene insegno Candreva R9 sempre lo stiamo provando Raffaele già lanciato Svain Coso Ramirez con la Fridolina mi casano di più si sta stasera darò una chance a Chilwell secondo me sei l'unico assieme a Max che si è sbloccato Chilwell che forte questo quadrato lo si è sbloccato alla fine quadrato ieri dalla guarda questo guarda qui caricato con cattiveria sto tiro perché ridi Vadelac che è troppo forte io ve lo giuro sto sto cazzo di sogra adesso ragazzi mamma mia sì insigne 2 milioni di budget centrocampista centrale da mettere con Rolfo quanto costa Viera o Viera o Gullit uno dei due 1,90m ha già paura bravo esatto sto d'accordo con te poi se lo usate con R1 ancora di più regà c'è devastante guarda là guarda là c'è guarda là guarda là guarda là mi sono allungato la palla con l'analogico ma mamma mia cioè prende ma veramente altro che Gino là ma veramente altro che Gino là mi dispiace ma non è stesse minchiata dello streamer in realtà Mariana dice la verità sei padillac con un altro account Ogbenè in realtà Ogbenè è il suo nome però con con un'abbreviazione delle ultime sue due lettere Zirzi o Cantona Seschili Cantona però Zirzi secondo me è leggermente più Openda a busta della spesa come mai signor Nico grazie mille per il diciassettesimo mese e grazie mille anche a Ricci ma grazie di tutto Gio ma grazie a lei signor signor Ricchi grazie ancora per il diciassettesimo a Nico e per il quindicesimo a Ricchi belli da casa bentornati punto scativo group Socrates l'uso come un motore aio penda wei regione buonasera miglior ruolo Socrates tutti i ruoli dal cc in su cc offensivo in su si 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 è molto più forte di regione la ogbene 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 wei gris guardate casa come stiamo ah comunque io non vi ho aggiornato ricordate brugnolo l'altra sera quello che studiava medicina a Catanzaro vi ricordate che l'ho sospeso oh tempo un minuto che avevo staccato la live un minuto mi ha scritto in privato su telegram porta rispetto per le persone dopo che mi aveva dato del raccomandato l'ho bloccato ha scritto porta rispetto alle persone stava scrivendo ancora mi è arrivata la notifica ho cliccato sulla notifica per la chat blocca arrivederci instant instant proprio non gli ho dato manco il tempo di esprimere la sua opinione due volte era quotato zero criminale criminale sono qui per flexare la sniperata di gullit amaro amatate tu l'hai sniperato gullit a 8 milioni quando hai quando hai utilizzato il lavoro da streamer prima di essere streamer quando hai visto sui lati positivi le esperienze effettive anche negativi non ho capito un cazzo di quello che hai scritto maria le chiedo la cortesia di scrivere in parole io sono ignorante maria no sembrava goal sono ignorante io sono uno streamer maria abbi pazienza oh bene chi ha c'è sta botta cacchina è morto guarda mi è saltato purtroppo no a 15 vabbò però l'hai preso cioè quanto aveva realizzato il lavoro da streamer prima di essere streamer no in realtà non aveva rotto le scatole sul lavoro da streamer aveva solo detto che ero raccomandato puntualmente quando uno ce la fa in questo paese ce la fa poi ho fatto un cazzo è sempre accomandato non è mai bravo non so chi comprare davanti con con 3 milioni metto socrates eusebio e bappé ciao dungeon che è uscito un pick di openda 5 skill e 5 deboli e lo stiamo provando il 5 skill corri openda laggiù papara vai te lo metto gu papara non mi pare facersi così la canzone non so se buttare lesbio no aspetterei domani con gli upgrade avrai qualche santo in paradiso bra bra dopo che sono stato due ore a spiegargli come cazzo se battono i calci d'angolo 20 marzo abbi rispetto per le persone ho provato felipe anderson mamma mia orribile stiamo provando ancora dungeon capi pazienza ma era quella dei calci d'angolo si si no gli avevano regalato la sub e non si era abbonato aveva detto che non si voleva abbonare perché non poteva spendere i soldi e vabbè lecito figurati allora la mia community dato che mi vuole bene gli ha regalato la sub e lui di tutto di sana pianta mi contatta in privato abbi rispetto per le persone vabbè vale 12k 12k reggio non ho mai capito cosa faccia a star bene sta gente nel dire minchiare di cose raccomandate poi purtroppo quelle sono quelle risposte che danno i boomer non le persone danno i boomer quando tu gli dici la verità in faccia e non l'accetta no e l'unico modo per rispondere è offenderti va bene pulisic molto forte reggio guarda se era gg ho il potom 92 ma è fraceto beh vabbè oppure ginolama sto usando sogra sono tipo doppioni sogra è molto più forte ma come fa di che il mapp è fraceto regà usatelo con i doppi passi amba pego i doppi passi ce l'ho più forte del gioco ve lo giuro imparatelo imparatelo a usare un po' meglio davanti non c'è altro con quel budget comunque sto penda segna eppure tanto no barano l'ho provato reggio si si gigi la voglio ciao giulio buonasera la facciamo la follia del pacco da 5.000 fc points eh giulio me lo deve dire lei potremmo farla troccato da sabbo pendo pendo adesso al posto di avermo ne parliamo raffaele diritto a kanji a kanji allora mi invidi mi invidi signor giulio ma appena non c'è qualcuno di più forte di mbappé allora sei partite 22 gol giocato da atti centrale nel 4-3-2-1 va bene va bene lì trova mbappé ora a novembre uberdorf e rolfo con la sawa centrocampo ci sta testato e blanc non ancora sto usando sia socrates che ginola e sto preferendo il francese ma vince tutti i rimpalli ho alisson base e devo cambiarlo schmaicolo van der sar base e van der sar perché non mi conta le sfie di san patrizio stai sbagliando qualche giocatore nella richiesta f vandanara rascin vandanara sicuramente con le palle sta messa molto meglio allora parliamo un attimo di questo penda poco meno di 300k io ho sbloccato il 5 skill ma è uguale alla versione 5 vedetebole non cambia assolutamente nulla con le stats è una card che va utilizzata tutta l1 più tasto della corsa sprint boost devastante e la palla è anche abbastanza attaccata ai peli si skilla anche discretamente bene si gira ottimamente nello spazio grazie all'agilità più bold e per regge anche i contrasti grazie a quell'86 di forza in più con il playstyle base del tecnico con l'r1 va molto bene palla al piede punti l'area avversaria con r1 premuto e corri il razzetto plus sulla fascia lo fa correre incredibilmente bene quindi volendolo si può utilizzare anche esterno il problema dell'utilizzarlo esterno è che c'ha veramente zero di passaggio la finalizzazione è ottima sia col destro che col sinistro quindi sicuramente scegliere il 5 skill è un valore aggiunto anche perché il 4 stelle skill è come se fosse un 5 con queste statistiche solo per i diri ovviamente che passaggi niente di che è una card che per 300k se avete una bundesliga ci sta sbloccare da super sub secondo me è sprecato mettere 300k di fodder all'interno di una sbc del genere ci potrebbe stare in panchina ma non te lo consiglio da super sub questo solo titolare solo se avete una bundesliga è una card che comunque un 8 con finalizzatore li vale fammi sapere nei commenti se lo sblocchi ci sta però non ci punterei molto simile a Werner come giocatore secondo me lui finalizza un po' meglio di Werner potesca di un moduli di King Kong mi hai risposto senza farti la domanda visto un quiz d'ingresso alla commione no no fa parte fa parte del mondo va bene così col cazzo che lo sblocco com'è sto penda ho appena fatto il il recap no Manuel se pensiamo che potrebbe escire il Bobby ci penserei un po' va bene se lascio qui il commento se lo fai sui social è meglio quando pubblico il video non so se fai l'openda perché oggi non la base ma ti avevo risposto anche prima save ah so che già te l'ho chiesto ma ora che risposta mi dai bloccatelo as al posto di adena come esterno è buono ma spero questa è un attacca ragazzi questo è un attt punto non ha passaggio non ha tiro dalla distanza questo è un attt corre ma non ha passaggio lascio like a volte commento so quanto valgo l'interazione vale di più il watch time se guardate il video fino alla fine magari lo guardate più di una volta pure a questo punto faccio quadrato aspettate a vedere se facciamo una carta top top ma la carta non è male in realtà ma no giulio mi cambi il titolo della live padillac con ora pro pack da 5000 fetch points eusebio con openda solo se schilli grazie max ma alla fine corre molto di più questo openda che ne pensi della serie sul rocco non so se voi ci avete fatto una caso ma io ho fatto la controfigura di Stefano Borghi nella scena in cui lui entra in piscina ti ha sloggato dal sito la faccio io allora faccio io no ti preoccupare allora vediamo che parti ci abbiamo Diego ha inviato un'immagine bravissimo Chris quello in realtà è una controfigura di me ma ragazzi ma basta ma basta io ci trovo Odegaard base il miglior attaccante del gioco attualmente Mbappé la regola dei 5 secondi che trova Gullit Diego che c'è trova Henry sto in riet troppo forte secondo me porca miseria no Massimino close ero in vannistero bergamo garantito mamma mia c'era un altro party però c'era zucchero junior hanno inviato una clip video zucchero junior però la guarderò dopo perché ho paura abbiamo 100 pic di geppa vero giusto geppa corretto più o meno oh no te stavo a sospend geppa 76 è questo no il nickname su sull'account geppa 76 non mi dice che sei ah no no ok geppa va bene per forza perfetto 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 se deve essere olandese almeno dammi van der sar laicon mi pare un po' sei refresciata stasera se non mi sbaglio siete folli con il pacchetto da 5k cheat max dopo aver trovato gullit una s massimo mezzo milione vicino pelemba per rodrigo fatti una di queste evoluzioni raffaele che è uscita questi giorni in questi giorni oppure te prendi pulisic oppure te prendi chiesa sono a dieta mia moglie ha fatto le zeppole divorzio no perché sennò non te le può fare più le zeppole ciao bers terzina sinistra della premia erogona sotto i 70k datemi tre opzioni wa bers 70k teo base della premier lamp day future stars è l'unico non mi aspetto niente ma sono già deluso mandale a noi e dopo me la vado a mangiare la zeppolina stasera pizza zeppola giorno di palestra benissimo sì mike hock lo so bene che significa così non facciamo i professori di sto cazzo grazie ue luca buonasera dove mi trova henry hai trovato gullit dal picco 85 io ho dei card base bet sì eh bet sì bet decisamente sì ma la faccio io e vi faccio via il pronostico allora facciamo icon olandese o francese francese sì o no no roberto raffaele avers no non è superato è ancora giocabile vado a prendermi al fly proprio al volante la bottiglia d'acqua che c'ho freddo c'ho 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 sete arrivo subito no andrew eccoci eccoci allora signori io vi chiedo un nome dal pacchetto 5000 fc points o 750k che vi ricordo da 2085 più 389 e una icon birthday cosa troppa base antonio allora io credo che qua esca sveinsteiga o kin se esce anrio gullit shop sul mio account lo stesso pack padillac ma si stia si stia ferma sono 50 euro signorina padillac lei con 50 euro ci paga un mese di affitto nella cantina volevo un tuo parere dato che hai son secondo te è meglio lui ha una am base son secondo me è più forte ah io devo shopparlo sul tuo account cioè con i miei soldi sul tuo account va bene però poi non mangi per un mese 50 euro è l'equivalente più o meno ed è pure tanto quasi 2 euro al giorno è quasi più conveniente con i gradi disegnai un po oddio no ah ma Giulio qua possiamo fare il glitch signori possiamo fare il glitch dei crediti perché Giulio ha 600k e il pacchetto ne costa 7,50 due ragioni anche se no è considerato di aria de reggio de reggio reggio oddio che glitch no no che nascontino il glitch dei crediti non è abbastanza 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 crediti per ottenere questo pacchetto gioca altre partite per guadagnare crediti non hai crediti non hai crediti non hai crediti non hai crediti glitch dei crediti e poi si apre con gli fc points let's go cos'è gullit 100% ok Milinkovic va bene va bene va bene va bene droppamene un altro sotto bello sciotto goloso tipo Benzema 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 Sorlot e questi sono i 2.89 garantiti ma potrebbero essercene altri maron guarda guarda allora allora Sorlot Milinkovic Goetz Frankowski Haaland Casemiro De Jong Martinez Sium Little arriva Gepp arriva Gepp è andata così fratelli è andata così Giulio è andata così paghiamo la bet olandese o francese vince il no no si figurati però non vale la spesa del pacchetto Rob guarda la squadra certo dici tu se mi devo mettere il suo close titolare una Germania competitiva anni 40 insieme a Fukrik si è bloccato tutto Giulio insieme a Fukrik e quell'altro ma io qua non ho spazio per mangiare insieme a Fukrik e Schweinsteiger si è bloccato tutto Giulio va bene Fred con i nostri soldi ci possiamo fare quello che vogliamo io non credo che a lei qualcuno dalla chat le dica come spendere i suoi soldi no signor Fred fatevi i cazzi vostri che campate cent'anni regà è esplosa la connessione aspetta forse è mandato godere perché si sono invidiosi ognuno espone il suo pensiero no nella mia chat no signor Fred la squadra è molto buona signor Giulio la squadra è da try harder deve togliere quel quel walker a destra sblocca di quadrato perché è stradroppata Vegeta meglio di Okaforra ma sono giocatori diversi Okaforra è grosso tendenzialmente si ma non deve giocare esterno questo Okaforra si Raffaele super difensivo vabbè ma Walter sta a pezzi quello che però ti posso di è che magari puoi aspettare venerdì sabato domenica quando droppano i contenuti della settimana due com'è quel Pelé morto Morgan non l'ho provata però giocabile secondo me allora abbiamo Geppa che ha 100 pic lo sto preparando la stream eccola qua grazie a lei signor Giulio eppure io Vegeta credimi prego signor Geppa può fare ciò che vuole Opendo è un buon giocatore da ATT raga ci uscirà il video tra una mezz'oretta 20 minuti non lo so quanto tempo il tempo che ci vuole dell'editing ora abbiamo finito di di provarlo raga vada vada Geppa vada è il suo momento di shine lei ha il palco prego signor Geppa secondo me non mi sta sentire benzerà meglio il 5 skill raga io vi dico per me raga il 5 skill è troppo più importante no ragazzi l'esterno questo penna non lo può fare corre ma non ha un buon passaggio vada Geppa in teoria dovrebbe rimanere Giovi però non te lo so dire al 100% Geppa Geppa Presidente Waygrass Presidente me lo taggate in chat per favore si perchè lui ha xbox Bayerk finalizzatore in signo io non vedo come non vedi che senso non vedi ah si era bloccato vada signor Geppa let's go che buona la pizza raga porca troia Gulaxi Fiorente io ho letto qualcuno nel mio gruppo sub che da sti pic ci ha trovato Henry acerbi com' com' man com'è vanni se vale quei crediti ah boh dob ah guarda quanto droppano arriva questa rosicata potente comunque il calcio sta andando proprio sta andando proprio in una direzione mamma mia ma pure i calciatori si stanno rincoglionendo si sentono intoccabili io non so che cazzo sta succedendo nel mondo del calcio nell'altro giorno quelli là i tifosi del trabzonobospor sono entrati dentro al campo del fenerbahce e si sono picchiati acerbi che offende quell'altro gli arbitri che non funzionano più il manchester united manda a fanculo oh lise manda a fanculo i giocatori e caccia cristiano ronaldo sancho e compagnia bella non è male open ragazzi vi faccio uscire il video a breve abbiamo appena finito di fare il il test pulisic testa di calciatore buona solo per cappello vero servono di pensionamento generale ma proprio del mondo c'è ormai c'è presente il fenerbahce vuole ritirare la spalla ma non lo farà mai ci sono degli interessi economici troppo importanti il 5 stelle skill è amazing perché sono uguali oh ansen ciao vincenzo oh ma guarda si picca no già è finita la pizza che palle ma perché dura così poco la pizza mariona è di 100k premier c'è sta quello là su axo c'è sta quello là negli obiettivi irlandese gratis no margherita semplice andrei tu burger ex pilota di formula 1 stasici e friarelli eh a me non piace a me non piacciono i friarelli raga no non è vero no non è vero crispo evo o torres evo sostituirebbe olise e spasserebbe erner secondo me torres è più forte di crispo segnale turco oh aspetta che ha trovato non ho visto che bordei ha trovato stacci un segnale turco qui in zona dove abito mi da due tre risultati esatti ogni volta che lo becco alla snai sul campionato turco non ne sbaglia uno uff campionato turco campionato turco bello bello pieno di roba no eh non lascia sta vanbustin raga ma mi state a sentire che ve sto a dire fasti pick mi state a sentire che fa oh guarda guarda che drop raga guarda che drop te dico sti pick 81 o più hanno il drop migliore dei pick della weekend league 84 o più guarda la avevo fatto padre gugiarro poca roba secondo me guarda la come drop rate generale sono nettamente migliori dei pick della vl ah vabbè andrew figurati openda rushford openda rushford non vale la pena raga farsi l'evoluzione là dentro se ce ne hai altri ed esci rientri eh appunto ti mostra gli altri madonna bastoni buongiorno o bastoni virgil bastoni buongiorno ah ci sono pure i pick 85 poi all'inizio borigio che è un'altra sono tanti che trovi dal pack close close milinkovic savage e altri due che non ricordo saprei dopo mio figlio che i bambini scudono brava esatto Gepp fai benissimo capo base o quadrato o? quadrato quadrato è più forte di capo base il nome quadrato adesso è uno dei terzini migliori del gioco difficile da usare però io ho fatto amazing io ho fatto bastoni da sbloccato si è meglio quadrato io lo sto giocando non sbloccato sul mio accanto lo sto giocando non sbloccato nono a kanji conviene fare l'evo di bastoni si wolf viaggia sono d'accordo club orzo io lo sto usando super sub nel secondo tempo per quello che costava aveva senso quadrato che fu quadrato manualmente si alessandrino non è un full automatico ma quasi nessun terzino è full automatico eh ci sta andrew io caro salberto non lo consiglio sempre terzino destro perché difensore centrale è nettamente più forte lo usi td o come cc wolf? come td per ora max? ma perché a centrocampo c'ho a dopo come sostituto di tre centrocampisti c'ho rolfo ugarte e poi bruno in teoria non lo tolgo mai esatto esatto bastoni o felix? bastoni sonnevo lo faresti? si minazzate assegnone ci può stare quadrato è meglio nico sta scolando un botto di carte buone infatti questi pick ragazzi vi consiglio assolutamente di farli oh vita staccio certo che mi ricordo so x si l'ho provato og bene ragazzi ma non capisco questo incredibile hype per questo og bene è una card mediocricissima eh domani pomeriggio silve trovi meglio con ragazzo al prossimo ma perché ti piace forse quello un po' più quello un po' più gruos no amazing io non è buono ma non consiglio a me non consiglio di sbloccarlo a poco serve ci sta a fare il pick 85 Ulrich ti dico solo che nella serata di stasera ho ricevuto due due parti uno con Henry e uno con Gullit grazie ma sono solo queste piccoline non sono quelle grandi sì Antonio no Edo no 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 che cazzo è sta roba stavano tipo i 6 mini dentro boh stavano tipo i 6 mini dentro durissimi mmm scioccato Gullit base è ombra sì Luca mi daresti un consiglio ho Touré Kimmish e Marchisio chi a fianco alla Rolfo mi trovo bene con Kimmish per i lanci ma mi fa scendere l'intesa ha due racchette no metti Kimmish non fa niente taglia con sto picco 85 grazie mille Alessandrino bello mio l'avella ma sei entrato nei gruppi sub bello di casa finito non malvagio no sei andato a Geppa credimi sei andato alla grande hai trovato penso una cosa hai trovato una cosa come una settantina di fodder SBC guarda fai una fai una roba vai nel club e fai oro rari più recenti aspetta te lo te lo scrivo in chat Alessandrino clicca questo link che io adesso ti scrivo in chat segui la procedura da cellulare ed entri nei due gruppi abbonati non l'ho provato Marco eh vieni che squadra try harder allora fai più recenti e metti oro raro grazie a te Alessandrino bello mio guarda la guarda la quanti fodder vai vai scorri scorri guarda la l'avrà trovato penso 581 su 100 pic domani si sblocca Beyerin e si iniziano le partite per Colomani eh si gode secondo me quel Beyerin ci può stare è bello giocabile peccato per il 70 di forza signor Geppa io la ringrazio incredibilmente per questo contenuto veramente veramente grazie 100.000 ehm allora io vediamo se posso c'ho qualche party qua intanto no posso fare qualcosa ho i pick però non c'ho roba ah però aspetta posso fare una roba fammi vedere i pacchetti scorta 140 no questi sono per il gif 55 75 80 no mille grade non vale la pena a quel punto faccio le aste con 60k con 60k prendo 80 giocatori con 55 però sono comuni ah no vabbè oddio però se ne prendo due di questi si sa si adesso esce anche il video bello mio mo stacco ed esce anche il video mo penso 10 minuti esagerando 5 minuti vabbè poi valuto io intanto sul mio account mi sto facendo mi sto facendo le rivals in quando è stato? da giovedì a mo a oggi ho fatto 24 partite sono salito dalla sesta alla mo alla terza divisione non so se salirò dopo la terza perché alla fine i premi sono già buoni qua se ci pensi sono due pacchetti 5 84 e due pacchetti 86 più 5 84 e 86 mentre in divisione 2 in divisione 2 sono 4 86 no aspetta forse devo vedere l'altra opzione 4 86 3 86 doppio 8 no 2 pacchetti 2 pacchetti 4 pacchetti 3 giocatori 86 eh no infatti tutti 4 pacchetti 3 86 più madonna mia in divisione 1 invece 4 pacchetti 3 86 4 pacchetti 4 85 e 2 pacchetti doppio 87 ciao haife madonna mia eh sta divisione 1 invece l'elite porca troia l'elite porca troia l'elite doppio 7 85 doppio 4 87 a settimana a settimana tanto le win se fanno ho editto divisione 2 madonna mia ragazze 14 giocatori 85 più a settimana già che ti mette il dubbio vuol dire che hanno fatto bene sono d'accordo con te Bayek 14 giocatori 85 più e 8 giocatori 87 a settimana a settimana diceva ora di rimanere in divisione 2 aspetta fammela vedere di nuovo la divisione 2 ovviamente prendendo sempre l'opzione 3 quelli che dai non scambiabili per 2 sono 4 4 pacchetti 3 80 ma siamo sicuri eh che si 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 sono 4 pacchetti si 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 4 pacchetti 3 86 ne abbiamo provato bene frate di Bob non è che mi ha fatto impazzire eh è un buon giocatore ma non è che mi fa impazzire oddio 4 eh però aspetta eh Puglia 4 12 86 più qua sono 12 giocatori 86 più a settimana 12 giocatori 86 più mentre in elite suono abbiamo detto eeeh l'opzione dove sta opzione 1 opzione 2 opzione 3 2 doppio 87 no aspetta qual è 2 doppio 87 2 4 85 qual è l'opzione 3 si raga non ha ah no ma questa è la divisione 1 non stavo a sbagliare eeeh no 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 è l'opzione 3 che bisogna guardare giusto 2 7 giocatori 2 2 mentre l'opzione 2 sempre 2 2 scusami qual è la differenza 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ah no allora l'opzione 2 che bisogna guardare l'opzione 2 no no dei crediti sti cazzi i crediti non servono a niente no raga ma sta elite è troppo è sbroccata raga 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 e lo sai qual è la cosa positiva di sta roba si io credo proprio di si anzi io in realtà ci vorrei arrivare entro giovedì che dopo domani eh oddio non lo so eh cazzo non è non è non è facile scalare tre divisioni secondo me in in un giorno e mezzo grazie padre l'ho visto considerando mo magari stasera gioco un po' domani mattina posso giocare un po' pomeriggio so totalmente off mercoledì sera domani forse posso giocare un po' ma non 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 so quanto non so quanto tryhard ci sta capi la cosa positiva la cosa positiva però eh è che mano mano che andrà avanti la stagione ma questa è la prima season questi sono i premi della divisione 2 l'opzione 2 che è la migliore secondo me ehm piano piano si livellerà cioè quindi magari la prima season sarà molto complicato la prima settimana sarà molto complicato la seconda settimana un po' meno la terza ancora un po' meno grazie a te djb buona serata sono due pallini dalla divisione 1 eh alla fine così triplo 85 quadruplo 84 doppio ecco comunque tanta roba ehm aspetta ma ci stavano ehm ora la gente ma io stesso oggi strano ehm no non ho fatto il pick icon ora la gente punta alle win almeno si guitta più facilmente ehm si alessandrino ehm qua in chat su twitch scrivi punto esclamativo poi tutto attaccato skill e c'è un video youtube di inizio anno salendo in prima ma vedendo i premi rimango così fino a giovedì e oddio da la 2 alla 1 la 1 abbiamo la 2 c'ha l'opzione 2 12 giocatori 86 12 garantiti la 1 invece c'ha eh 8 85 e 4 87 oddio lo sai che c'hai ragione eh la 2 è meglio della 1 no ma infatti non è male sta promo veramente migliore una delle migliori del gioco top 3 tra thunderstruck fantasy e e birthday eh raga io vi do un consiglio se voi se state puntando a sky io farò così probabilmente fermatevi alla divisione 2 eh in questo in questo caso sì esatto se conti la rottura della divisione 1 è meglio la divisione 2 poi ovviamente puntando alla elite non è male Gabri però adesso vi faccio uscire il video proprio stacco e beh e esco se riuscite se riuscite cioè se state scalando e volete arrivare in elite o in generale se state scalando e magari non riuscite ad arrivare in elite non andate in divisione 1 sì sì Max assolutamente sì ora magari Max un altro paio di divisioni delle scalo tanto che divisioni siamo in sesta in quinta quante vittorie ho fatto ho vinto tutte e sei le partite che ho giocato in sei secondo me in quarta in quarta tra oggi e domani ti arrivo tranquillamente in realtà poi dipende ci ho messo 13 partite per passare dalla sei alla quarta io se devi fare il passo conviene restare in divisione 2 e poi provare elite alla prova sono completamente d'accordo e più che altro ti consiglio che se non siete sicuri di arrivare in elite al 100% non ci arrivate non salite la divisione non salite in divisione 1 mi pare di sì la divisione 2 è meglio della divisione 1 perché sì ok la divisione 1 c'ha gli 87 garantiti però sono di meno ma secondo me sì ci prova però dipende se giochi con i diri a giro con i timed ok che c'hai 4 giocatori 87 più che raga 4 87 più garantiti sono tanti eh attenzione però però la divisione 2 pure pure c'ha del bel del bel golosone eh c'ha dodici dodici giocatori 86 più garantiti eh raga dodici dodici 86 più è tanto raga no io devo arrivare in divisione 2 assolutamente vabbè dai quante partite su 1 2 se vinco 3 4 5 6 6 8 8 win di fila no no che avranno sbagliato le ma 5 partite dalla 5 con il per 2 attivo no 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 che sbagliato no no perché allora alla fine la divisione 1 scusami la divisione 1 sono migliori i premi della divisione 1 della divisione 2 perché hai molti più giocatori sono 8 85 e 4 87 quindi sono 12 giocatori 85 e più però le 87 mediamente cioè ti vai a togliere tutta quella spazzatura tra 85 e 86 sono tante da 87 a 91 sono pochi i giocatori eh quindi è assolutamente tra virgolette migliore come valore assoluto questo però di là sono più giocatori con overall garantito e io preferisco avere più giocatori con overall garantito che meno giocatori con un overall più alto anche quando vi faccio i consigli del pass il giovedì quando esce una nuova season io ragiono sempre così va bene allora signori e signorine dove signorine è rivolto ovviamente a Cassanigno non so se sta ancora in chat certo che c'è differenza ma sbanco signori vi vado a pubblicare il video di open da adesso ora minuto e mezzo sia su tiktok sia su shorts su youtube e sia su reels su instagram noi ci vediamo domani sera diciotto e trenta domani sera che esce aspetta ah domani sera esce harit fammelo vedere un attimo sto harit non gioca solo culit è l'unico 5-5 culit di tutti gli altri metti ma infatti è vero ma ricordavo sta roba domani sera questo harit fammi vedere dove gioca sto può fare in ligand è possibile no in bundes league ah no harit no gioca in ligand nel marsiglia 5-3 ah e domani sono pure gli appo dei fantasy ah questo è 5 skill quindi questo domani è 5-5 eh attenzione regà quadrato è così è possibile pizzi però è randomico eh 5-5 è easy non male io questo qua è uno di quelli la che mi sono sempre conservato da inizio gioco la versione base per potenziali evoluzioni ora mi pare prendere un più uno ehm no se avversate giocatori che non li utilizzate se non li utilizzate lasciate di stare però magari aspetta domani che magari gli fanno appoggerete ma non mi ricordo va bene dai signori ci vediamo tra poco su per i video di open da ci vediamo domani sera domani io ragazzi tornerò in palestra domani pomeriggio vi aggiorno su instagram quindi mi raccomando droppateci un follow anche lì che abbiamo da poco superato i 10 cappi eh punto scamativo ig droppate un bel follow love per tutti quelli che non vogliono usare tiktok per guardare video ve li pubblico anche sempre su instagram come potete ben vedere ok ci sono tutti i video di tutte le cose che pubblichiamo tutti 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 va bene buona serata ci vediamo ci vediamo domani sera signori ciao prendi ramos itachi e qui quindi qui 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 Grazie a tutti.